Io sono contento per più motivi, primo chiaramente lo che abbiamo vinto e perché già appena della partita eravamo alle finalette di Coppa Italia ma ci volevamo andare come tra ragazze per i nostri meriti e non perché noi perdiamo e vincono gli altri e ci aiutano ad entrare nelle finalette. Avevamo raggiunto un bellissimo obiettivo malgrado un periodo oggettivamente di grande difficoltà e di tanti infortuni. Secondo me io sono molto contento perché concedetemi, sembrò presuntuoso, però abbiamo dominato una partita anche se non abbiamo avuto la forza di non subire il ritorno di Valesa quando è ritornata addirittura più uno credo o pari, non lo so. Però credo che eravamo preparata, preparata bene, abbiamo cambiato di difesa, abbiamo avuto una nuova circolazione, la palla in attacco, abbiamo sfigato la loro difesa così aggressiva, qualche errore con qualche pigro, troppo attuale a metà campo ma ci poteva stare nei 40 minuti. Purtroppo non lasciamo goderci la vittoria a fondo perché anche oggi abbiamo avuto un infortunio discretamente pesante di David Cornu e questo insomma mi dispiace molto perché sembra che non ne veniamo fuori da questo insieme di infortuni, però speriamo che il ragazzo lo riprenda velocemente e di poter tornare tutti quanti in palestra per poter lavorare. Sì, sì, oggettivamente chiaro che è facile dirlo dopo però non avevamo tanti dubbi sul suo intervento all'interno di questa squadra, la propria buona struttura. Un buon giocatore subicherò difensivi, chiude bene il ferro, chiude bene l'aria, ha un buon tocco, ha un buon passaggio. Oggi forse a un certo punto sono un po' distratto, ho fatto quei brutti passaggi, non sapendo bene le spaziature, però credo che sia stato coinvolto pur sapendo 45 giochi in attacco non di più, quindi è sicuramente un buon aiuto. Ultima cosa, sono veramente molto contento per il club che ci teniva tantissimo a entrare nelle Final Eight. Fino a tre giornate fa sembravamo spacciati, che ormai era un sogno e non si poteva raggiungere. E seconda cosa, sono molto contento e voglio un pensiero ai nostri tifosi che ci seguono ovunque andiamo in maniera molto massiccia, qui per questioni vecchie, non so, non lo voglio sapere, è stata rientrata la trasferta, però sono venuti a salutarci sulla partenza del Pullman, ci tenevano tantissimo, quindi siamo molto contenti per voi. Grazie. Grazie. Prego. Davide, che cosa si fatto? Ha fatto la caviglia, adesso è abbastanza gonfia, ha sentito un bel dolore, quindi vedremo adesso quando poi, fra due tre giorni, come sarà l'esponso medico. Grazie. 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 Grazie.